Non agganciare, non agganciare, concentrati e resta lì! Non agganciare, devi ascoltare, in emergenza si fa così! Senti bene ogni cosa che il dottore dice a te, è importante fino a che non giungo nei soccorsi! Non agganciare, non agganciare, concentrati e resta lì! Non agganciare, devi ascoltare, in emergenza si fa così! Chiamare è indispensabile, devi essere affidabile, resta calma e non ti sbaglierai! Non agganciare, non agganciare, non agganciare! Ok, Dotti, noi siamo calmi! Ti ascoltiamo! E siamo pronti per le tue istruzioni! Bene, ora dobbiamo costruire una stecca per l'elica di Sally, così potrà riportare Rust in ospedale! Ricevuto, Dotti! La prima cosa da fare è trovare un lungo pezzo di legno! Potreste prendere un asse di legno dalla mia recensione! Sì! Ora poggiatela gentilmente sull'elica rotta di Sally! Sarà fatto, Dotti! Come ti senti, Sally? Sto bene! Ora dovete trovare qualcosa per legare l'asse all'elica! Ci penso io! Grande! Ora controllate che sia ben stretto! Mi sembra ben stretto! Sally? Come ti senti? L'elica mi fa ancora un po' male! Ma la stecca dovrebbe tenerla finché non arriviamo in ospedale! Ci vediamo quando arrivate qui! E questa volta mi assicurerò che Rusty non si spaventi per il rumore! Ok! Partiamo! Il vento quassù fa più rumore di un criceto in un uragano! Forza, bello! Forza! Piano! Preso! Ce l'abbiamo fatta! Oh, Dotti! Sono così fiera di voi! Avete messo a posto Sally e lei vi ha riportati sani e salvi in ospedale! Dotti, eravamo così preoccupati! Lo so! Ma poi al telefono vi siete calmati! Avete ascoltato e seguito le mie istruzioni! Ed è proprio così che si fa durante un'emergenza! Sì, è vero! È proprio così! E ora ripariamo questi giocattoli! Dotti, come sta Rusty? È stato un intervento difficile, ma sono lieta di comunicarti che il tuo cavallo sta bene ed è tornato come nuovo! Oh, non mi stai prendendo in giro! Allora vediamo il paziente! Per tutti gli speroni e yuppie-yai-yai! Vieni qui, vanno! Oh, Sally soccorso! Stai bene anche tu! Puoi dirlo forte! E ora andiamo, ragazzi! C'è un rodeo che ci aspetta! Dottoressa Pelusso, ospedale dei giocattoli a Disney Junior